Gli ha voluti accogliere alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella. Antonio Ceseri ha abbracciato così gli oltre 500 ragazzi toscani del treno della memoria, appena tornati dalla Polonia. Doveva esserci anche lui a bordo per raccontare la sua storia di militare italiano internato per non aver aderito alla Repubblica di Salò. Motivi di salute lo hanno tenuto a casa, ma non per questo ha rinunciato a lasciare il suo messaggio ai giovani. Io lo dico perché le persone devono sapere se subiamo noi, perché di molti non sanno niente di quella faccenda. Purtroppo bisogna raccontarla, io finché fosse la racconto, poi io sono quasi 90 anni. Poche ore prima, a Padova, il saluto a due delle testimoni che hanno accompagnato i ragazzi toscani, le sorelle Bucci. Fino agli ultimi momenti del viaggio hanno stretto mani e risposta alle domande dei giovani. Si chiude così l'ottava edizione del treno della memoria, organizzato dalla regione toscana. Nel bagaglio dei ragazzi, tante storie da tenere vive. Sicuramente mi ha colpito in particolar modo la storia del cugino delle sorelle Bucci, perché onestamente l'idea, sì, il fatto che i bambini venissero torturati in modi disumani, anche il fatto che venissero fatti su di loro degli esperimenti, era una cosa che sapevo già. Però sentire da una testimonianza reale persone che hanno perso un cugino, quindi anche un familiare stretto in questo modo così orribile, così disumano, è qualcosa di diverso. Io già prima di fare questa meravigliosa esperienza ero fermamente convinto che bisognava tutti lottare contro il razzismo. Quindi da questo punto di vista non mi ha cambiato più di tanto. Però quello che veramente ora sento più di prima è di dover lottare contro il razzismo.